Cosa è l'affaticamento della vista? L'affaticamento degli occhi è un dolore o un arrossamento generale dell'occhio causato dallo stress da parte di una delle numerose fonti o fonti multiple. Nel tempo, può causare una serie di sintomi diversi tra cui la sensazione di bruciore agli occhi, visione offuscata e persino mal di testa. Fortunatamente, è possibile adottare una serie di misure per ridurre l'affaticamento degli occhi. I sintomi dell'affaticamento della vista variano molto da persona a persona, anche se la maggior parte avrà un po' di dolore negli occhi. Oltre alla visione offuscata, il mal di testa da affaticamento degli occhi è spesso una lamentela comune, anche se all'inizio la persona che sta vivendo il mal di testa potrebbe non rendersi conto di cosa sta causando loro. Altri sintomi di affaticamento degli occhi potrebbero non essere immediatamente attribuibili agli occhi. Questi includono sentimenti di irritazione e stress mentale. La causa dell'affaticamento della vista è un uso eccessivo degli occhi senza dare loro abbastanza tempo di rilassamento tra quegli usi prolungati. Per aiutare a combattere questo, molti suggeriscono di fare una pausa ogni ora per almeno 10 minuti. Questo può aiutare a ridurre gli incidenti e fornire ore più produttive a lungo termine. Coloro che soffrono di questo tipo di condizione dell'occhio possono scoprire che lavorare su di esso e costringere gli occhi a rimanere concentrati è un compito difficile che alla fine non ha successo. Anche una scarsa illuminazione può contribuire alla condizione. La situazione più comune in cui si sviluppa l'affaticamento della vista nel mondo moderno è quando si lavora con i computer. Monitorare l'affaticamento degli occhi si sviluppa dal guardare troppo a lungo lo schermo di un computer. Diverse cose possono aiutare a ridurlo, come avere il contrasto del monitor impostato su un livello accettabile. Immagini ad alto contrasto significano che gli occhi non dovranno lavorare altrettanto duramente. L'altra soluzione consiste nell'installare uno schermo sopra il monitor che contribuirà a ridurre l'abbagliamento e la dannosa luce ultravioletta, che non possono essere visti ma possono comunque causare tensioni agli occhi. Chiunque incontri regolarmente questo problema dovrebbe anche cercare di capire se ci sono altri fattori che contribuiscono, come gli occhi asciutti. In questi casi, ci sono molti rimedi da banco che possono aiutare a ripristinare un po' di umidità negli occhi. Anche se questa non è una correzione alla causa principale del problema, può aiutare ad alleviare alcuni dei sintomi dell'affaticamento della vista. Coloro che trovano che tali soluzioni non aiutano dovrebbero chiedere il parere di un medico. Mentre la maggior parte considera l'affaticamento degli occhi un irritante minore, altri ritengono che possa causare problemi significativi a lungo termine. Inoltre, uno sforzo insolitamente doloroso potrebbe significare che ci sono altri problemi che devono essere affrontati. Solo uno fetalmologo esperto può dirlo con certezza. Grazie. Grazie a tutti.